L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria cresce nei numeri e nell'offerta didattica. E non è vero, ha affermato lo stesso Rettore Giuseppe Zimbalatti presentando l'offerta formativa dell'Ateneo che studiare in un'università calabrese non offra le stesse opportunità di altri Atenei più prestigiosi. Sì, presentiamo oggi l'offerta formativa per l'anno accademico 23-24, consapevoli dei buoni risultati raggiunti nel corso di questo anno accademico nel quale abbiamo registrato un più 3,7% a livello di immatricolazioni e confortati anche dai dati Alma Laurea secondo i quali l'oltre 85% dei nostri laureati è soddisfatto della scelta che ha fatto di studiare e di laurearsi alla Mediterranea ed è altrettanto soddisfatto del corpo docente. Presentiamo quindi un'offerta formativa anche quest'anno arricchita di due nuovi corsi di laurea in particolare uno nell'ambito del design, una laurea magistrale, ed un altro nell'ambito delle scienze umane, anch'essa una laurea magistrale. E quindi, come dicevo, un'offerta formativa che porta ad oltre 50 i corsi di laurea presenti negli ambiti che vanno da agraria, architettura, design, ingegneria in tutte le sue sfaccettature architettura, giurisprudenza, economia e scienze umane, ma arricchita negli anni passati con notevole successo anche con dei percorsi di scienze infermieristiche e scienze motori attivati con l'Università della Magna Grecia di Catanzaro. Pertanto oggi presentiamo questa offerta formativa, consapevoli che possiamo offrire il nostro contributo alla crescita culturale del nostro territorio. Tra le novità di quest'anno del nostro manifesto degli studi ci sono intanto le tasse universitarie che nonostante l'aumento del costo della vita sono rimaste invariate, ma abbiamo inserito degli esoneri molto importanti a livello sociale, degli esoneri totali dalle tasse universitarie per le vittime della mafia e della criminalità organizzata e l'esonero totale alle tasse universitarie per gli studenti detenuti. Proprio nell'ambito di questi accordi che stiamo via via stipulando sia con gli studi carcerari di Reggio Calabria ma anche un po' del territorio attivando appunto il polo universitario carcerario. Cresce intanto il numero degli studenti della Mediterranea aumentando nel corso e l'ultimo anno del 3,7% ma il dato più interessante viene dal rapporto di Alma Laurea secondo il quale oltre il 93% degli studenti si dice soddisfatto dell'esperienza di studio a Reggio mentre il 92,2% si richiara soddisfatto del corpo docente. Grazie Grazie Grazie